Aspetto un cenno. Quindi, avverto che sono visse un'obiezione, la pubblicità dei lavori della seduta di Erna sarà assicurata anche mediante attivazioni di impanti audiovisivi e circuito chiuso e la trasmissione diretta sui abitivi della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione del Direttore Generale di Arpa Sicilia, Vincenzo Infantino, che ringrazio dalla presenza. Il Direttore Generale Infantino è accompagnato dal Direttore di Unità Operativa Complessa, Valutazioni e Parole Ambientali, Ingegnere Salvatore Caldara. Ricordo che la seduta di Erna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta la partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avvertino inoltre i nostri ospiti che della presente audizione sarà dato il risonconto stenografico e che se lo riterranno opportuno, consentendo la Commissione, i lavori potranno proseguire in seduta segreta. Segnalo che, in tal caso, per la parte di seduta sottoposta al regime di segretezza, saranno sospetti tutti i collegamenti da remoto e la trasmissione diretta sui abitivi della Camera dei Deputati, che saranno tempestivamente inattivati alla ripresa della seduta libera, al fine di assicurare il miglior svolgimento dei lavori. Invito inoltre i nostri ospiti a destinare, se possibile, l'illustrazione di eventuali contenuti riservati alla parte finale della seduta. L'audizione odierna rientra nell'ambito dei fini di inchieste relativi al sistema di smaltimento dei rifiuti di Sicilia, al monitoraggio degli appalti relativi alla gestione dei rifiuti soliti urbani e alle conseguenze di incendi e accadimenti di natura criminale nella medesima Regione, nonché alla bonifica del sito di interesse nazionale di Gela, già deliberata in sede d'Ufficio di Presidenza, integrato da rappresentante dei gruppi, nella riunione del 20 dicembre scorso. A riguardo ricordo che, come convenuto, in sede dell'Ufficio di Presidenza, integrato da rappresentante dei gruppi, nella riunione del 7 marzo scorso una delegazione della Commissione si recrea in Commissione in Sicilia, nelle giornate del 26, 27 e 28 marzo, nelle province di Catania e Caltanissetta. Ricordo inoltre che la Commissione è chiamata a svolgere indagini atti a far luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, con particolare riguardo alla verifica di comportamenti illeciti, nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica, ovvero da parte di soggetti pubblici e privati operanti alla gestione del ciclo dei rifiuti. A tal fine, la Commissione acquisisce informazioni su soggetti pubblici o privati operanti alla gestione del ciclo dei rifiuti, con l'obiettivo specifico di individuare eventuali connessioni, trattare attività illecite o altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, nonché tra le diverse regioni, anche tenendo conto del divaro della dotazione di impianti. Inoltre, con riferimento specifico alla tematica dell'audizione odierna, ricordo che rientrano tra le competenze della Commissione, essenza dell'attività in legge istitutiva, verificare l'eventuale sostanza di attività illecite relativa ai siti inquinanti e l'attività di bonifica, nonché verificare la correttezza dell'attuazione della normativa vigente in materia di ambientale relativamente agli ambiti di indagini della Commissione stessa e all'applicazione della legge del 22 maio 2015, numero 68, recante e disposizione in materia di delitti contro l'ambiente. Cedo dunque la parola al Direttore generale di ARPA Sicilia, Vincenzo Infantino, per lo svolgimento della sua relazione introduttiva al termine della quale i colleghi parlamentari potranno rivolgere eventuali domande o richieste di chiarimento. Prego. Grazie, buongiorno, sono Vincenzo Infantino, Direttore generale dell'ARPA Sicilia. Io ho preparato una relazione ma sinteticamente ne traccio i punti più importanti e poi la lascio alla Commissione. ARPA Sicilia è istituita nel 2001 e si occupa di attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale, monitoraggio dello stato dell'ambiente, sono due diverse funzioni che hanno un approccio completamente differente, controllo delle fonti di pressione e dei fattori di inquinamento, attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni, supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compito di amministrazione attiva in campo ambientale e poi la raccolta, l'organizzazione e diffusione dei dati ambientali unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività e che costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione. ARPA Sicilia fa parte del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente che è stato riorganizzato con la legge 132 del 2016, esiste il Consiglio Nazionale di Protezione dell'Ambiente e il Sistema Nazionale è costituito da le 21 agenzie regionali e le due province autonome, e più Ispra. Detto questo ho solo da dire una cosa che secondo me, ripeto un po' da tutte le commissioni, perché sono stato prima sentito dalla prima commissione Bratti, poi dalla commissione Vignaroli e adesso da voi, l'Agenzia regionale vive un momento di grande difficoltà, che però è un momento di difficoltà che esiste praticamente da sempre, perché rispetto a una pianta organica ormai non si ragiona più così, però la pianta organica in Corea esiste di 957 unità di personale, siamo circa 280 e con una dotazione assolutamente insufficiente, lo si rileva anche dall'esito della precedente relazione dalla commissione Vignaroli dove è ben rappresentato questo stato di criticità e in più aggiungiamo peraltro che c'è stata una lunga questione che ha riguardato anche la Corte Costituzionale circa la legittimità della norma che riguardava il finanziamento dell'Agenzia che è stato risolto anche brillantemente perché il nuovo governo ha legiferato e innovato la questione del finanziamento dell'Agenzia superando il problema, nonostante ciò ha legiferato nel marzo del 2022, nonostante ciò l'Agenzia oggi non ha il bilancio approvato per tutta una serie di questioni che lascio qui alla commissione, ma rappresento che è possibile una potenziale paralisi paralisi delle attività di competenza anche per impossibilità di adozione degli atti di programmazione economica. Questa è una criticità importante visto le refluenze potenziali per il danno all'ambiente e i rischi sulla salute della collettività. Questa è la relazione che la lascio. C'è anche il nostro organigramma che, visto che l'Agenzia regionale è presente sul territorio con almeno una sede in ogni provincia. Le province sono nove, quindi abbiamo almeno nove sedi, in alcune ne abbiamo anche più di una. e l'organizzazione, c'è la direzione generale che governa un po' e dà gli indirizzi e poi le strutture territoriali che operano le attività di controllo e monitoraggio perché controlliamo in maniera puntiforme tutte quelle che sono le attività che hanno a che fare con gli impatti di tipo ambientale e poi gestiamo le reti di monitoraggio qualità dell'aria, abbiamo una rete che riguarda le acque superficiali, le acque profonde, la rete dei campi elettromagnetici, la rete della radioattività, insomma tutte le reti di monitoraggio che sono attive 24 ore su 24 e gestite dal governo della direzione generale. In più i nostri laboratori sono accreditati secondo la norma UNI 17.025 per i laboratori di prova, è un laboratorio multisito, i nostri laboratori sono a Palermo, Catania, Siracusa, Ragusa. Grazie, io ho preparato un po' di domande, inizierei a farle così magari alcune, adesso sono magari superate per quello che ha detto, che possono servire come traccia, poi vediamo dopo se sono altri colleghi che ne hanno altri, in realtà io queste le avevo preparate. Quindi in audizione pregresse è stato riferito che a questa commissione è un importante credenziale organico dell'agenzia, al momento è cambiata l'auditozione organica, qual è la situazione del personale di servizio in ARPA, Sicilia rispetto a quanto più è stata la pianta organica, ARPA dispone del personale con qualifica di polizia giudiziaria, quindi mi sembra di poter rispondere che l'auditozione organica non è cambiata, quindi lei diceva che l'audito di pianta organica è di quanti? Siamo circa 280 di ruolo, e invece la pianta organica sarebbe di? 957 unità di persone, 957 e voi siete 280. Ricordo che la struttura organizzativa delle agenzie, delle singole regioni delle agenzie, nel 94 a Valle del Referendum, si costituiva in funzione alla grandezza del territorio, ricordo che la Sicilia è la regione più grande d'Italia, e poi rispetto a tante altre questioni che costituiscono gli impatti ambientali sul territorio. Quindi l'auditozione organica non è cambiata, qual è la situazione del personale di servizio in ARPA, Sicilia rispetto a quanto previsto nelle piante organiche, quindi ce l'ha già risposto. ARPA dispone di personale con qualifica di polizia giudiziaria? Sì, sono circa 40 i nostri ufficiali di polizia giudiziaria, il numero esatto potrei... Vabbè, vabbè, così... Li abbiamo, li abbiamo. In questi ultimi anni ARPA Sicilia è riuscita a garantire il livello minimo delle attività di protezione ambientale, ovvero l'EPTA, le chiedo se può approfondire questo aspetto in modo particolare a riferimento al controllo delle pressioni sull'ambiente. Allora, la prima risposta è decisamente no, no perché lo rappresentiamo, noi costruiamo il Piau che è lo strumento di programmazione della pubblica amministrazione e nel programmare le nostre attività noi programmiamo in funzione innanzitutto di quella che è la dotazione finanziaria e chiaramente è assolutamente inferiore a quelle che sono le nostre attività. Io, se mi è consentito, proprio recentemente in virtù della questione che ci ha riguardato la regione siciliana e l'illegittimità della norma che poi è stata cambiata a valle della sentenza della Corte Costituzionale, per tutto il 2023 abbiamo strutturato una piattaforma di contabilità che riuscisse a valutare esattamente i costi delle nostre singole attività perché noi abbiamo un elenco di servizi e prestazioni che riguarda tutto il sistema nazionale e quindi anche Arpa Sicilia. Per ognuna di questo elenco di servizi e prestazioni nel 2023 ne abbiamo valutato i costi e recentemente rispetto a un tabulato che raccoglie tutto l'elenco delle nostre attività e quello che la legge prescrive dove non c'è una prescrizione precisa di norma, abbiamo lavorato sulla base di quelle che sono le pressioni ambientali del nostro territorio stabilendo quanta attività o quanta prestazione abbiamo dovuto fare per quelle attività totalizzando un complessivo di 79 milioni. Questa nota è stata mandata all'organo di vigilanza che è il Dipartimento Ambiente e l'assessorato al territorio ambiente, al Presidente della Regione e anche all'assessore alla salute perché il nostro finanziamento proviene in gran parte dal Fondo Sanitario Regionale e in piccola parte, anzi fino a 24 milioni dal Fondo Sanitario Regionale e 7 milioni dal Fondo Regionale. Il computo complessivo per quelle attività se avessimo dovuto fare tutte le nostre attività risultava di 79 milioni di euro. Ok, dal rapporto di sintesi di dati ambientali pubblicato per l'anno 2023 si apprende che in merito dei controlli ARPA dei 95 impianti AIA regionali in esercizio sono emerse 15 non conformità di tipo penale. Può approfondire meglio che tipo di lecidi penali sono stati rilevati e se questi sono stati oggetto di prescrizioni ARPA nelle quali a temperare oppure hanno dato origine ad ulteriori indagini. Allora su questo preferisco che risponda l'ingegnere Caldara che magari è più addentro. Oggi avevo chiesto al nostro direttore tecnico di partecipare ma era ammalato e quindi non è potuto venire. Ma avrete modo di sentirlo magari nel vostro giro. Buongiorno a tutti. Sul nostro territorio regionale la buona parte degli impianti in autorizzazione interna ambientale è rappresentata da impianti di trattamento dei rifiuti per cui una buona parte dei controlli ovviamente è stata dedicata a questo settore di attività. Ovviamente nello specifico sulle singole azioni, sulle singole ispezioni, il tipo di violazioni riscontrate potrà essere fornito nel dettaglio se questa è la richiesta della Commissione, quindi questo sicuramente ce lo appuntiamo e ve lo faremo avere con maggiore dettaglio. Però sicuramente una buona parte di queste non conformità riguarda proprio la gestione dei rifiuti, le modalità gestionali dei rifiuti in questi impianti. Ovviamente le non conformità diverse volte, abbiamo diciamo alcuni casi, sono sfociate anche in comunicazione all'autorità giudiziaria sicuramente. Ok. Recentemente nell'attività ispettiva ARPA ha accertato una variazione delle quantità di rifiuti di siti di fuori regione. Se ce ne può dare con specifico riferimento alle tipologie dei rifiuti, le entità nonché alle destinazioni extra-regionali e trasfrontaliere? Sì, allora, da quando in Sicilia il sistema delle discariche, come sapete in Sicilia non ci sono altri sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani diversi dalle discariche. Da quando si è esaurita la discarica della ditta Sicula Trasporti, incontrata a Grotte San Giorgio, situata a cavallo delle province tra Catania e Siracusa, ovviamente in tutta la Sicilia orientale si è determinata una forte criticità, per cui il gestore dell'impianto di trattamento meccanico-biologico che tratta il rifiuto residuale urbano, residuale dalla raccolta differenziata, che è giusto precisare soprattutto nei grandi centri come Palermo e Catania, è assolutamente insufficiente rispetto a quelli che sono gli standard previsti dalla norma. Quindi vengono trattati presso questo impianto di trattamento meccanico e biologico situato in contrada Coda Volta, sempre della ditta Sicula Trasporti, che nell'impossibilità di conferire in discarica il rifiuto trattato, ha chiesto l'autorizzazione alla Regione per conferire i rifiuti all'estero. Da quello che ci risulta, sebbene i flussi dei rifiuti sono regolamentati dalla Regione, in particolare dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, incardinato nell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, quindi è quella l'autorità che stabilisce i flussi dei rifiuti, da quello che ci risulta vengono conferiti in Danimarca e in Finlandia, credo, dopo trattamento. A tale riguardo è utile rappresentare che questo impianto, chiamiamolo un unico impianto costituito da due parti, la parte di trattamento meccanico e la parte di trattamento biologico. Io non mi soffermo sul dettagliare le modalità dei flussi, dei trattamenti di queste tecnologie laddove la Commissione lo ritenesse, posso eventualmente approfondire. In realtà queste due porzioni di impianti sono governate, sono autorizzate da due due differenti autorizzazioni, c'è un decreto AIA che riguarda l'impianto di trattamento meccanico e un decreto AIA che riguarda l'impianto di trattamento biologico. In una sintesi che abbiamo già lasciato agli atti della segreteria è riportato tutta la sequenza degli atti autorizzativi. In ultimo il decreto del 7 aprile 2023 che aveva modificato entrambe le autorizzazioni sia dell'impianto di trattamento meccanico che dell'impianto di trattamento biologico inserendo le operazioni, l'operazione R12 essenzialmente, che prima non era prevista nelle due autorizzazioni al fine di consentire l'ingresso nell'impianto dei rifiuti in operazione R, quindi di recupero per il successivo invio ad operazione R1, cioè di termovalorizzazione. Sì, fuori regione e da quello che risulta anche fuori dal paese. Abbiamo proprio recentemente verificato che la procedura ambientale prevista in questo cosiddetto decreto PONT che consentiva appunto questa modalità gestionale all'impianto, prevedeva l'espletamento di una procedura ambientale di valutazione preliminare, essenzialmente l'articolo 6,9 del decreto 152 2006, hanno avuto una valutazione negativa dall'autorità ambientale regionale. Quindi questo è lo stato dell'arte dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento meccanico-biologico, visto nel suo complesso della ditta Sigola Trasporti di Contrada Codavolte a Catania. Quindi, scusami, faccio un po' di ordine. Noi sappiamo che il rifiuto urbano in Sicilia nel 2022 è pari a 2.149.600 tonnellate. Ok. Di questa quota di rifiuti urbani, quindi vengono tutti quanti... No, 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 mi riferivo soltanto alla parte, diciamo, nella Sicilia orientale che vengono trattati presso l'impianto di Contrada Codavolte. La parte della Sicilia occidentale, in particolare Palermo e Ustica, vabbè, ma insomma Ustica ovviamente la produzione è minima, vengono conferiti presso la piattaforma tecnologica di Contrada Bellolampo, diciamo, alle porte della città di Palermo, anch'essa dotata di un impianto di trattamento meccanico-biologico e di un complesso di vasche di discarica, diciamo, ormai tutte esaurite, ad eccezione dell'ultima che è stata autorizzata e realizzata recentemente, in realtà parzialmente realizzata, nel senso che è stata consegnata soltanto un primo stralcio che ha consentito la ripresa degli abbancamenti in quel sito che era stata interrotta al momento dell'esaurimento dell'ultima vasca che era in coltivazione, salvo poi riprendere in realtà a seguito di ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco, essenzialmente dell'articolo 191 del decreto 152 2006, utilizzando dei volumi che si erano resi disponibili a seguito dell'assestamento appunto dei rifiuti abbancati nelle vasche precedentemente esaurite e non ancora chiuse in maniera definitiva, avevano soltanto una chiusura provvisoria, il profilo si era modificato nel senso che per i normali processi di assestamento dei rifiuti e di biodegradazione del rifiuto, soprattutto della componente organica, avevano creato, reso disponibili questi volumi che peraltro devono essere comunque riprofilati per garantire poi nella configurazione definitiva il corretto deflusso delle acque superficiali e quindi in questa fase emergenziale i rifiuti del comprensorio di Palermo erano stati conferiti in queste vecchie discariche in fase di chiusura e per le quali è in via di definizione il procedimento autorizzatorio unico regionale per la chiusura definitiva di tutto il complesso delle vecchie vasche, mentre è stato appena aperto da pochi mesi il conferimento nel primo stralcio della cosiddetta settima vasca. Poi c'è anche un altro impianto di trattamento meccanico biologico che quindi tratta i rifiuti urbani a Trapani, della ditta Trapani Servizi, che è appunto effetto a trattamento meccanico biologico ma conferisce presso discariche diverse, nel senso che loro prima avevano una discarica anche queste esaurite e quindi loro conferiscono principalmente da quello che ci risulta a Timpazzo, alla discarica di Timpazzo a Gela. Ok, quindi non ho capito una cosa, io non ho capito quanti rifiuti prendono destinazioni ex regionali. No, questo dato non ce l'ho, al momento ve lo forniamo. Grazie. Sì, sì, ve lo forniamo. Posso aggiungere Presidente? Sì. Ovviamente pesa molto il fatto che le grandi città metropolitane, parlo di Messina, Palermo, Catania, Messina, Siracusa, hanno livelli di raccolta differenziata che si attestano intorno al 15-20%. 15-20% di raccolta differenziata? Ok. E questo significa che... Che tutto rifiuto... Dove va? Va tutto in discarica, quindi le discariche sono fortemente in crisi, basta che c'è un problema in una di queste discariche che scatta subito l'emergenza più folla del mondo. Sì, adesso io vado avanti con le domande che mi rifiuti, quanto è differenziata, quanto non è differenziata, dove vanno a finire, le quantità e anche i costi più che altro, perché capire quanto costa una tonnellata di rifiuti che deve prendere la direzione extra trasfrontaliera. Quindi sono dati che non so se avete o comunque ve li possiamo farvi anche per iscritto e poi ce li mandate, ecco. Però noi dobbiamo avere il quadro completo dei costi del sistema rifiuti in Sicilia. Quindi la produzione regionale di rifiuti speciali si attesta a circa 9,3 milioni di tonnellate, mentre la gestione interessa circa 8,4 milioni di tonnellate. La differenza tra produzione e gestione e cosa attribuibile dove va a finire? Abbiamo uno scarto di quasi un milione. La produzione regionale di rifiuti speciali si attesta a circa 9,3 milioni di tonnellate, mentre la gestione interessa circa 8,4 milioni di tonnellate. La differenza tra produzione e gestione a cosa attribuibile dove va a finire? Allora anche qui proveremo a recuperare il dato. Posso provare a dedurre una risposta nel senso che i rifiuti speciali non sono soggetti a regime di privativa, cioè non devono essere trattati necessariamente in ambito regionale e quindi non possiamo escludere che vengano mandati fuori regione, come la norma consente, per essere trattati presso impianti che sono attrezzati per poter trattare quella tipologia di rifiuti. Non so se sono stato chiaro. Allora, dal report dell'anno 2023 emerge che dall'attività di controllo effettuata da ARPA Sicilia presso gli impianti di depurazione ha determinato 54 comunicazioni all'autorità giudiziaria. A riguardo le chiedo se ci può riferire elemento comune a tali illeciti e se queste comunicazioni riguardano prevalentemente la gestione dei rifiuti prodotti presso gli impianti di trattamento reflui, ovvero i fanghi prodotti dal processo di depurazione. Sì, sicuramente una delle fattispecie più ricorrenti riguarda la non corretta gestione dei fanghi. però ci possono essere anche altre tipologie di violazioni che si configurano poi come responsabilità penali che possono riguardare ad esempio lo scarico di sostanze pericolose nei rifiuti e quindi potrebbe essere anche questa. Però anche questo se volete il dato classificato... Guardi, io al termine le lascio, le faccio delle domande che abbiamo preparato, così voi avete modo di rispondere. Le leggo però mi rendo conto che sono specifiche quindi non è neanche semplice rispondere. Per i corpi idrici sotterranei l'ARPA ha riscontrato uno stato chimico di qualità scarso per il 61%. A riguardo è stato fatto un accertamento programmato e pianificato per valutare la fonte delle contaminazioni ed eventualmente con quali risultati? Lì siamo pure in ritardo atavico come regione. Per fortuna per evitare il rischio di infrazione il Ministero ci sta aiutando perché abbiamo strutturato un accordo di programma che è stato finanziato interamente dal Mase e noi stiamo assumendo a tempo determinato circa 160 unità di personale che si occuperà solo ed esclusivamente del monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei. L'accordo è partito da circa 7-8 mesi e questo anche per individuare le fonti di pressione insieme all'autorità di Bacino che è di nuovo istituzione anche qui istituito con grave ritardo alla fine del precedente governo. Quindi su questo stiamo lavorando e tra l'altro c'è una pre-infrazione in corso per cui questa attività speriamo che possa essere condotta a completamento entro la fine del 2025 come d'accordo con il Mase. Posso aggiungere solo una cosa in merito ai rifiuti? La titolarità del controllo in regione Sicilia è delle province. Le province da noi hanno avuto tantissimi problemi e diciamo sostanzialmente la presenza di rappresentanti delle province nei tavoli che discutono di rifiuti è quasi nulla e quindi spesso siamo chiamati noi perché siamo per legge supporto delle province ma in assenza delle province siamo poi chiamati in prima persona a rispondere e spesso siamo chiamati anche a rispondere a queste domande che sono di competenza più degli enti che autorizzano e gli enti che autorizzano nella fattispecie per i rifiuti sono il dipartimento acqua e rifiuti dell'assessorato in energia e non dell'assessorato ambiente perché anche qui le competenze fra gli assessorati sono diversi. Acqua e rifiuti va all'energia, la parte dell'aria va all'assessorato al territorio e ambiente. Giusto così anche voi nel giro siciliano sapete eventualmente chi di competenza chiamare al tavolo delle... Sì, infatti prossimamente la Commissione si recherà in missione in Sicilia presso le province di Catania e Caltanissetta. A riguardo vorrei chiedere dei chiarimenti. Quali sono le attuali criticità che può riferirci rispetto alle aree destinate all'attuazione della bonifica delle raffinerie di Gela? Sì, anche per questo abbiamo preparato un breve appunto che abbiamo già lasciato alla segreteria in cui in realtà abbiamo riportato le attività svolte dall'Agenzia nell'ambito del Sindigela che ovviamente ricordiamo come autorità competente che quindi governa i procedimenti di bonifica essere il Ministero dell'Ambiente a differenza dei siti di interesse regionale e lì ARPA partecipa insieme a ISPRA ovviamente in tutte le attività di campo, di collaudo delle bonifiche, di indagini ambientali, di monitoraggio e così via. In particolare l'Agenzia negli ultimi anni ha svolto le seguenti attività, monitoraggio idrochimico e feriatimetrico della falda del multisocetario ai fini della verifica dell'efficacia idrochimica e dell'efficienza idraulica e delle performance dell'impianto TAF, cioè del trattamento di acque di falda. È stato prelevato di campioni pari a circa 120 all'anno per circa 30 sopralluoghi all'anno. È stato effettuato il collaudo della bonifica mediante desorbimento termico nell'area della vasca A zona 2 della raffineria, il collaudo della bonifica per scavo e smaltimento nell'area dei nuovi serbatoi S111 e S112 della raffineria, indagini di baseline e collaudo bonifica per scavo e smaltimento nell'area Texaco e lavaggio gas, monitoraggio ante operam e in operam della bonifica della cosiddetta isola 9 ISAF, collaudo verifica è stato avanzamento e monitoraggio in opera, bonifica isola 1, 2, 6, 17 di Enir Wind. Ancora verifica di ottemperanza dei procedimenti di valutazione ex articolo 242 ter del decreto legislativo 152 2006, sempre nell'area della raffineria di Gela, verifica dalla messa in sicurezza di emergenza per eventi accidentali all'interno della raffineria di Gela e nell'area di competenza della Enir Wind, questo come attività di campo. Come attività istruttoria l'agenzia rende i pareri richiesti dal Ministero, congiuntamente a Ispra, circa una trentina di pareri all'anno e provvede alla stesura della relazione di validazione, cioè di chiusura delle attività ai sensi dell'articolo 248 del 152 e ovviamente partecipa alle conferenze dei servizi e ai tavoli tecnici convocati dal Ministero. Ovviamente lo stato di avanzamento complessivo dei procedimenti di bonifica è abbastanza articolato, in parte lo possiamo desumere anche dal sito del Ministero, però se anche su questo la Commissione chiede un dettaglio, perché nel SIN, nell'ambito del SIN di Gela ci sono diversi, chiamiamoli sotto procedimenti, che possono trovarsi a stati differenti, dove è stata completata la caratterizzazione, dove è in corso il progetto di bonifica e così via. Quindi possiamo dettagliare per ogni singolo procedimento all'interno del SIN qual è lo stato di avanzamento. Recentemente con l'ordinanza di revoca della misura cautelare reale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, in data 2 gennaio 2024, ha risposto di sequestro della porzione dell'area della Vasca E, presso la discarica di Timpazzo, gestita dall'impianti SRR Ato 4, Caltanissetta, provincia sud SRL, sottoposta a vincolo cautelare, per il superamento delle sole di contaminazione di rischio delle matrici ambientali. Puoi riferirsi di qual è lo stato dell'arte in merito? Sì, allora, in realtà il sequestro era stato operato dai nostri colleghi UPG a seguito di un sopralluogo svoltosi nell'ottobre del 2021, essenzialmente per delle non conformità, perché hanno rilevato sostanzialmente rifiuti non adeguatamente trattati. Come sappiamo la norma prevede che i rifiuti possono essere conferiti in discarica previo trattamento, previo adeguato trattamento. Durante il sopralluogo sono state riscontrate delle non conformità sui rifiuti rinvenuti e questo ha dato origine al sequestro. Anche su questo abbiamo lasciato già alla segreteria della Commissione un estratto della relazione dei nostri colleghi ufficiali di Polizia Giudiziaria che hanno eseguito l'intervento. Il procedimento si è chiuso dal punto di vista del sequestro perché la ditta poi aveva ottemperato sostanzialmente alle prescrizioni che erano state impartite, in particolare ritrattando i rifiuti nella porzione di vasca che era stata sequestrata e quindi rendendoli conformi all'abbancamento sostanzialmente. Per quanto riguarda il superamento dell'intervento delle CSC in alcuni piezometri, anche lì questo è un problema comune a tutti i siti in cui convivono nuove vasche, chiamate così vasche di recente realizzazione, ancora in esercizio con vasche esaurite, però lì l'iter di bonifica è ancora in corso. Credo che sia stato approvato il piano di caratterizzazione, però anche questo ve lo confermiamo successivamente. Io non ho altre domande, poi faremo pervenire nello specifico così se riuscirà a darci risposta ne avremo un quadro più chiaro settimana prossima quando andremo in loco. Se ci sono altre domande lungi e poi dopo l'orefice. Grazie Presidente, più che delle domande volevo intanto ringraziare il dottore Infantino e il dottore Caldara per la loro presenza anche in questa nuova legislatura qui in Commissione perché come sappiamo io ho avuto modo di leggere almeno parzialmente quella che è la relazione depositata in precedenza su quello che è lo stato della depurazione in Sicilia che purtroppo conosciamo bene e le relative procedure di infrazione. Io mi voglio intanto complimentare per quello che da siciliana riconosco essere il lavoro eroico che l'ARPA porta avanti in un territorio così vasto, un territorio così dilaniato da ogni tipo di reato ambientale, quindi è fuori da ogni dubbio che come Governo, come Commissione dobbiamo cercare di essere incisivi per dare gli strumenti affinché l'ARPA possa realmente assolvere a tutti quelli che sono i compiti e le responsabilità che giorno dopo giorno gli vanno attribuite, che vanno dall'acqua ai rifiuti, alle nuove tecnologie, spazi elettromagnetici. È oggettivamente difficile in Sicilia, in una regione in cui non esistono, a differenza del resto d'Italia, le province che è l'ente intermedio deputato alla gestione di alcuni ambiti sui quali l'ARPA lavora. Gli assessorati di competenza sono due e quindi anche le funzioni lì c'è un po' di confusione nell'attribuire le responsabilità, nel riuscire a capire chi anche a livello regionale deve monitorare chi fa cosa e tutto ciò rende veramente ancora più difficile ciò che seguire dei processi che magari in altre regioni sono molto più lineari e scontati. Io sono molto contenta che la prossima settimana ci regheremo in Sicilia perché a volte se non si tocca con mano quelle che sono le tragiche realtà in cui in alcune zone geografiche di Italia viviamo è anche difficile provare a trovare delle soluzioni. Quindi sicuramente noi porremo anche per iscritto, io mi riservo di porre all'ARPA, al direttore, tutta una serie di domande e di quesiti più specifici sicura di trovare sempre la loro disponibilità per cercare di affrontare quantomeno le emergenze che la Sicilia ci pone, una regione dove immaginate nel quadro generale una regione che riesce ad arrivare a solo un 15-20% di differenziata in una regione che conta quasi 6 milioni di abitanti. Immaginate quello che è la mole di rifiuti che vengono prodotti. Solo poche province come ad esempio Enna dove vivo io che è un piccolo centro si raggiunge una differenziata del quasi 70% ma il resto della Sicilia è invasa di rifiuti che non possono essere tracciati, che vengono raccolti con gli escavatori e che è veramente difficile trattare come debbono essere trattati. Quindi io mi riservo di porre delle domande specifiche in futuro e vi ringrazio ancora per quello che fate e con i pochi mezzi e risorse che avete a disposizione. Grazie. L'orefice? Grazie Presidente, grazie agli auditi, al Direttore Generale. Ci rivediamo noi non mai periodicamente. Provo a formulare una serie di domande perché chiaramente poi nell'attesa anche di leggere la relazione in aggiunta almeno io non ho sentito nell'illustrazione parlare dei siti che sono sottoposti alla normativa SEVESO perciò parliamo di impianti a rischio di incidente rilevante. Se è possibile avere materialmente anche una fotografia di quelli che sono i siti con rischio di incidente rilevante tra cui Gela perché prima di andare in missione noi e i commissari, il Presidente, avremo la possibilità di avere un quadro aggiornato. Per il signo di Gela voi sapete che il piano d'emergenza esterno è in corso di aggiornamento. Se non erro è stata anche fatta già la pubblicazione a parte della Prefettura per dare conoscenza e dare pubblicità al piano. Perciò se possiamo avere aggiornamenti e in che modo l'Agenzia sta partecipando e contribuendo. Poi sempre per il sito di Gela vi chiedo in particolare per la parte legata ai rifiuti radioattivi. Mi riferisco al ex impianti di trattamento delle fosforiti. perciò sono sì materiali e ex materiali a bassa radioattività però all'interno del signo di Gela abbiamo anche questa fattispecie. Con la presenza di una delle più grandi discariche forse d'Europa di fosfogessi hanno creato una collina artificiale con milioni di metri cubi di residui e pertanto per la parte degli ex impianti che trattavano e trituravano le fosforiti voi sapete perfettamente che quegli impianti si sono caricati di radioattività. Lo stato di avanzamento delle attività di messa in sicurezza permanente, di bonifica e in particolare alle richieste legate alla creazione di discariche interne perché voi mi insegnate che uno dei problemi non è solo riuscire a definire, quantificare il rifiuto poi c'è la necessità, se non si può trattare, di portarlo da qualche parte. E se non erano i progetti autorizzati dal Ministero dell'Ambiente dal 2018 in poi c'era anche quello di creare alcune discariche interne al sito, se ci potete dare un aggiornamento in tal senso. Sempre per quanto riguarda il SIN di Gela, oltre ad un aggiornamento su quello che è la fase di decommissioning è messa in sicurezza d'emergenza, permanente e operativa se c'è. Perché come forse i componenti della Commissione non sanno, una parte degli ex impianti della raffineria di Gela risultano in cosiddetta conservazione. Cioè l'Eni nel 2014, quando ha fermato la raffineria, ha deciso che buona parte dei suoi impianti è stata ripulita, messa sotto azoto, pronta come se fosse una macchina, io domani giro la chiave e li faccio ripartire. Situazione legata a quanti di questi impianti risultano in conservazione e se, che chiaramente quello è un escamotage tecnico, per non passare alla dismissione totale dell'impiantistico, quasi su 700 ettari di superficie. Ultimo e non ultimo per il SIN, siti orfani. All'esterno del perimetro di raffineria abbiamo una porzione, rientra sempre nel SIN, riferisco alla discarica Cipolla, che è una discarica di rifiuti speciali, originariamente autorizzata per rifiuti non pericolosi. La situazione è ben altra. Sappiamo che lì la regione siciliana ha avviato una serie di attività, tra cui caratterizzazione, sapere se il progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente, a che punto è, compreso per l'altra discarica, non rientrante nel SIN, quella di Marabusca. Come al solito, lei... Mi fermo temporaneamente. No, lei viene troppo preparata. Finiamo le domande, così dopo siamo qui due giorni. Finiamo le domande. Ok, allora, lasciamo il SIN per ora e passiamo a quello che è la discarica di Timpazzo. La discarica di Timpazzo è una delle pochissime, forse, non so se è l'unica discarica pubblica o comunque costruita con risorse pubbliche e che negli ultimi anni è stata anche utilizzata come discarica per mezza Sicilia o tre quarti alla Sicilia. Residuo da bancamento, perché utilizzando una delle poche discariche in Sicilia in emergenza, tantissimi comuni hanno portato i loro rifiuti presso quella discarica. La situazione è la bancamento. All'interno dello stesso sito abbiamo un TMB. Io chiaramente anche con le vostre interlocuzioni ho alcune vostre relazioni e solo dagli ultimi, cioè stiamo parlando di circa un anno fa, primi del 2023, voi avete fatto un nutrito elenco di non conformità e io vi chiedo, in relazione all'AIA di Timpazzo, con tutta una serie di prescrizioni puntuali, se quelle prescrizioni sono state ottemperate e se no per quale motivo e cosa state facendo in tal senso e per tutto ciò che avete segnalato anche con segnalazioni all'autorità giudiziaria dalla mancanza di effettuazioni di autocontrolli, la mancata piantumazione arborea, le torce che non funzionavano per quanto riguarda i pozzi di captazione biogas e anche tante criticità legate al TMB, che prima almeno da interlocuzioni informali con la nuova gestione mi dicono di aver risolto e ottemperato almeno a quelle macroscopiche, perché non si chiudevano neanche le porte del TMB, pertanto lì c'era una non conformità del rifiuto in uscita. E ultima e non ultima, ora sono venuto a sapere che il CSS prodotto in quel TMB, nonostante è certificato come un CSS di qualità, viene smaltito all'interno della discarica. Voglio sapere se è così e perché. Se un CSS che ora è conforme, addirittura è certificato, qual è il problema legato, perché la SRR Impianti mi dice che la regione siciliana non ci autorizza e di conseguenza siamo costretti, nonostante all'uscita del TMB noi facciamo un prodotto di qualità certificato che potremmo anche vendere, non lo possiamo fare perché la regione siciliana non ci autorizza, pertanto questo è un problema rilevante, poi chiaramente lì sarà cura dei singoli parlamentari territoriali e anche di avvisare la Corte dei Conti, per me ci sono anche rilievi di natura contabile. Poi vediamo chi e per quali motivi. Presidente, io per ora mi fermo perché poi avremo modo di... Io direi che successivamente queste domande si possono anche raccogliere e mandare per iscritto. Esatto, tanto dobbiamo inviare le nostre così hanno modo anche disposto, quello che possono risponderci ok, però visto che è una cosa che ci interessa. Anche perché insomma ad alcune possiamo rispondere subito, ma diciamo lei pone troppe domande. Ci vuole un volume intero dedicato, però alcune le possiamo subito esitare. Tu hai preso degli appunti. La prima che riguardasse i stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in generale nella regione e poi su Gela. Allora, l'Agenzia ha alcuni tecnici specializzati e dedicati esclusivamente all'attività sia istruttoria sui rapporti di sicurezza nell'ambito dei gruppi di lavoro che vengono costituiti dal Comitato Tecnico Regionale. L'approvazione dei documenti di rischio è effettuata dal Comitato Tecnico Regionale incardinato presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, dove ARPA ha due componenti fissi annualmente designati che partecipano ai gruppi di lavoro per le istruttorie e si Gela è in fase di istruttoria il nuovo rapporto di sicurezza. Abbiamo partecipato attivamente al tavolo della Prefettura di Caltanissetta per la predisposizione del piano di emergenza esterna insieme all'ASP, in particolare dico insieme all'ASP perché c'è la sezione Ambiente e Salute che abbiamo curato insieme, però abbiamo consegnato tutto alla Prefettura e credo che il piano sia stato di fatto esitato, quindi su questo posso confermare. Dopodiché dobbiamo distinguere tra, nell'ambito della normativa SEMESO, il Decreto Legislativo 105 del 2015, l'ultima norma, gli stabilimenti di soglia superiore e gli stabilimenti di soglia inferiore. Gli stabilimenti di soglia superiore vengono come parte ispettiva degli SGS, di Sistemi di Gestione della Sicurezza coordinati sempre dal CTR, dal Comitato Tecnico Regionale, quindi i nostri ispettori fanno parte delle commissioni ispettive nominate dal Ministero dell'Interno sostanzialmente. Per gli stabilimenti di soglia inferiore l'attività ispettiva è coordinata dalla Regione, dal Dipartimento Regionale Ambiente, che anche lì ha costituito un gruppo di lavoro e quindi anche lì i nostri partecipano alle attività ispettive sugli stabilimenti, secondo una programmazione. All'incirca vengono eseguite, credo, 7-8 ispezioni sugli stabilimenti di soglia superiore, grossomodo altrettanti per quelli di soglia inferiore, ripeto, secondo una programmazione che viene fatta dal CTR, nell'un caso, e dal Dipartimento Regionale Ambiente, nell'altro caso. Però vi faremo avere il dettaglio, l'elenco degli stabilimenti, con magari anche le ultime ispezioni che sono state fatte negli ultimi 2-3 anni. Gela, impianto fosfogessi, discarica di scopo, l'agenzia ha seguito molto da vicino questa attività, in particolare grazie alla nostra unità operativa complessa a Erca, perché sappiamo benissimo che Gela è un'area di autodischio di crisi ambientale, e quindi questa porzione di territorio ricada nelle competenze della unità operativa complessa a Erca, che segue anche il SIN di Gela, che sicuramente potrà essere presente anche al sopralluogo, se lo ritenete, e quindi su alcuni aspetti di dettaglio della sua domanda potrà fornire maggiori informazioni, però sin da adesso possiamo rassicurare sul fatto che l'agenzia ha seguito anche per la parte radioattività, perché noi abbiamo un'unità operativa complessa specialistica agenti fisici, che segue gli aspetti ambientali legati a fonti di pressione da agenti fisici, quindi anche le radiazioni ionizzanti, e quindi il responsabile di questa unità operativa complessa ha partecipato ai tavoli promossi dalla Prefettura, perché questa attività è stata eseguita e promossa dalla Prefettura, proprio per gli aspetti relativi alla redattività, che sono governati da un decreto specifico, in questo momento non ricordo il riferimento normativo, ma ve lo facciamo avere, perché sono stati espletati tutti i passaggi previsti da quella norma. Però qualche criticità nel sito è stata evidenziata anche da noi, l'abbiamo fatto presente, quindi poi vi manderemo anche le relazioni di servizio che sono state fatte. Stessa cosa per quanto riguarda il decommissioning, la messa in sicurezza su tutto il sito di Gela, poi la collega responsabile dell'unità operativa complessa vi dirà tutto. Per quanto riguarda i siti orfani, Contrada Cipolla e Contrada Marabusca, non sono moltissimi in questo momento, nel senso che mi risulta che il Dipartimento Acqua e Rifiuti ha fatto richiesta per inserirli, forse sono stati già inseriti nell'elenco dei siti orfani, queste due discariche, sono inseriti. Ecco, allora, il processo di messa in sicurezza permanente? Ok, esatto, perché la messa in sicurezza permanente deve passare prima dalla caratterizzazione, quindi credo che la validazione del supplemento di caratterizzazione sia in corso, però questo ve lo confermiamo. Per quanto riguarda i volumi residui di impazzo, adesso il numero esatto non lo so, ma comunque non è tanto, nel senso che la discarica di fatto ha subito una veloce fase di riempimento dovuto proprio a quello che ricordava l'onorevole Orefice, perché nelle fasi emergenziali, regionali, molti rifiuti da buona parte della regione sono stati conferiti lì. Anzi, addirittura ricordo che per fare questo, l'autorità competente, sempre nel Dipartimento regionale a quei rifiuti, modificò l'AIA eliminando il limite del conferimento giornaliero che era previsto nel decreto iniziale. Sulla ottemperanza delle prescrizioni sulle non conformità riscontrate, l'ha già detto, di fatto sono state riscontrate durante l'ispezione alcune non conformità, quindi sicuramente non tutte le prescrizioni risultavano ottemperate, perché altrimenti non sarebbero state sollevate, però anche su questo vi faremo avere magari direttamente l'ultima relazione di verifica e spettivaia che è stata fatta sul sito. Sulla questione CSS, diciamo, non siamo noi l'interlocutore, perché come dicevo prima, i flussi dei rifiuti vengono determinati dall'autorità competente, dalla regione, e quindi diciamo, intanto bisognerebbe capire se questo CSS di cui stiamo parlando è CSS rifiuto o è CSS combustibile, penso che sia CSS rifiuto, però questo è da verificare, nel senso che, no, allora una cosa diventa rifiuto se uno non sa cosa farne se ne deve disfare, anche se è oro, il CSS invece diventa CSS combustibile, quindi diventa endowaste, cioè esce fuori dal regime dei rifiuti, se invece ha determinate caratteristiche, diciamo, chimico-fisiche e merceologiche. E quindi, se dovesse essere questa seconda ipotesi, diciamo, lo potrebbero in teoria mandare ovunque possa essere utilizzato il CSS combustibile. Se invece rimane nel regime dei rifiuti, però comunque, essendo un rifiuto speciale, ripeto, anche quello andrebbe fuori dal regime, diciamo, di privativa che è legata al rifiuto urbano, cioè il CSS non dovrebbe essere più consigliato un rifiuto urbano, quindi dovrebbe poter essere gestito nel libero mercato. L'ultimo controllo che avete fatto in discarica a Timpazzo, quando è stata, chiaramente, penso che i vostri tecnici hanno verificato cosa veniva bancato, pertanto, già da lì potremmo capire cosa entra in discarica. Se a me dicono che quello che esce dal TMB, per mancanza di autorizzazione regionale, nonostante ha le caratteristiche di, non può essere inviato ad altre filiere. Perciò io chiedo... No, no, questo lo verifichiamo, questo lo verifichiamo senz'altro, questo lo verifichiamo senz'altro, però, ripeto, dipende, appunto, probabilmente il gestore ha chiesto una modifica dell'autorizzazione per poter fare questo. Ok, ho capito. No, 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 adesso... Ok, ok. Ho capito, sì, sì, sì. E devono passare dalla modifica dell'autorizzazione, certo. Sì, sì, sì. Ho capito. Sono una cosa anche per ringraziare le belle parole dell'onorevole Longi, che apprezzo tantissimo, ma sul tema degli impianti di depurazione, perché probabilmente avremo un'altra procedura di infrazione a breve, e recentemente con il nostro assessore di riferimento, l'assessore dell'ambiente, abbiamo discusso di come affrontare, sebbene la questione non sia tipicamente di questo assessorato, ma più dell'assessorato Energia, Dipartimento Acqua e Rifiuti, però ha posto questa attenzione cercando di evidenziare un po' quelle che sono le norme... Ecco, prima cosa, noi abbiamo una legge regionale che è la 2786, lei la conosce molto bene, a dieci anni dalla prima legge, dalla legge Merli, del 76, esattamente nello stesso mese, la regione fece questa legge alla 2786, perché poi scadevano i tempi, e da allora questa legge non è mai stata modificata, tutte le altre regioni hanno modificato l'assetto normativo per la tutela delle acque, e questa 2786, mi dicono, si dice che la legge è caducata, cioè praticamente rimane in piedi solo quei piccoli tratti, però molte regioni hanno normato adeguando ai tempi, cioè noi abbiamo piccoli comuni limitrofi che da 3.000 abitanti violenti passano a 30.000 abitanti violenti nel giro di 20 giorni. Ora, questi transitori, molte regioni, hanno normato e hanno dato delle deroghe in questi periodi transitori. Questo aiuta ovviamente chi gestisce l'impianto a portarlo al regime immediatamente, ma in un certo tempo. E' una deroga anche legittima se ci pensiamo, certo le leggi non le facciamo noi, noi le attuiamo, però dal punto di vista ambientale, e pensare che un impianto entri in funzione con questo carico organico, dall'oggi al domani, è veramente critico. Pensarlo. Normare, adeguando ai tempi, la proposta che noi abbiamo fatto recentemente all'assessorato, oltre a concordare sulla gestione un po' anche nostra organizzativa migliore, in modo tale da avere una fotografia sempre aggiornata, e noi te la faremo avere quando venite, su tutti i nostri impianti di depurazione, e anche strutturando le piattaforme informatizzate più efficienti. Noi ci stiamo lavorando, anzi siamo a buon punto, però un suggerimento che darei è quello di, diciamo, la 2786 va aggiornata, perché non è più adeguata ai tempi. Grazie, se non ci sono altre domande, ringrazio gli auditi, per poi avere questo scambio epistolare per quelli che saranno le ulteriori dubbi e chiarimenti. Queste domande le acquisiamo adesso oppure per mail? No, per email ne facciamo una mail complessiva e la mandiamo. Va bene? Ok, ma queste risposte, tutta questa documentazione ve la dobbiamo produrre per il 26 quando venite, oppure prima del 26? Allora se, adesso magari noi facciamo evidenziamo, quelle di cui abbiamo necessità per avere così un approfondimento, poi altre quando avete, non so, con i tempi che servono. Ecco. Dichiaro chiusa l'audizione, grazie.